Piacere, sono Marco Belardi del De Begnac. Abbiamo vinto una grande partita e ci meritiamo la finale. Il nostro grande difensore, Luca Priolisi, ha fatto una partita straordinaria e ci mette tanto cuore come sempre. Che ne pensi della partita di oggi? Innanzitutto voglio esordire mandando questa vittoria in cielo per i nostri amici scomparsi l'altra settimana. Erano due amici dell'età nostra e voglio dedicare a loro questa vittoria. Nella partita possiamo dire che abbiamo vinto col cuore perché è stata veramente dura. Abbiamo avuto degli avversari degni di una semifinale, forse anche di una finale, forse meritavano loro. Però la partita e il carcere è così, come si dice la palla è rotonda e abbiamo vinto noi sul 3-2. Si è mangiato anche in gol mostruoso un avversario all'ultimo minuto. Però andiamo al Flaminio, andiamo al Flaminio. Qua c'è il nostro secondo portiere, sta in panchina, però comunque si è incitato sempre i compagni, non si lamenta mai. Mai. Grande sostegno morale. Ciao a tutti.